buongiorno a tutti allora magliettina del gigione ultima volta che la faccio vedere perché nel prossimo video non lo farò più perché ormai vi ho stressato a sufficienza per questa settimana e poi tanto che vi guardate la maglietta con la frase bitica eccola qua di che cosa parleremo parleremo di due attori campioni di arti marziali padre e figlio mitici che ci hanno lasciato giovanissimi entrambi uno per una cosa che adesso ve la leggerò e sono rimasto basito e l'altro lo sapete benissimo durante il film che stava in cui era protagonista ma andiamo a parlare appunto di questa cosa qua la vita di queste due persone soprattutto gli ultimi attimi diciamo così di quello che è successo vi stop un attimo e poi partiamo come dei missili vabbè partiamo non sprechiamo plurali plurali maiestatis così arafica ma andiamo a punto a parlare di questi due personaggi la morte di brusley è uno dei misteri che ancora oggi per molte persone restano piedi di dubbi e con tanti punti di domanda tra le domande più ricorrenti come fa un uomo all'apice della sua già straordinaria forma fisica a morire così improvvisamente a caso una causa di un banale analgesico ma andiamo per gradi e ripercorriamo l'ultimo periodo e soprattutto l'ultimo giorno di vita dell'attore figlio di li poi cioè attore e cantante cantonese e di grace o discendente di uno stimato e potente musidesman cinese robert hotung brus nacque a san francisco il 27 novembre 1940 quindi oggi avrebbe 83 anni se fosse ancora vivo già da piccolo anzi 82 perché li compierebbe a novembre di 83 già da piccolo manifestava un temperamento difficile da gestire ed anche a scuola era molto scontroso e rissoso la famiglia scelse di mandare il ragazzo degli stati uniti temendo che il suo borrascoso carattere avrebbe dociuto alla reputazione della sua prestigiosa famiglia la carriera cinematografica e storia quindi facciamo un balzo al 10 maggio del 1973 anno in cui era all'apice del successo e che girò il difficoltoso lungometraggio dei i3 dell'operazione drago il film era già stato girato andava solo doppiato quella mattina bruce si allontanò per andare al bagno mentre stava completando una sessione di doppiaggio una volta raggiunta la toilette l'attore cominciò ad accusare un valore sempre più intenso e fu ritrovato in stato febbricitante e pre dalle convulsioni trasportato in ospedale salvato dal metico peter wu che gli si modistò del manditolo a bruce fu riscontrato un edema cerebrale la tempestività dell'assunzione del medicinale fu decisiva per ridurre il rongonfiore del cervello formularba valorata la tesi secondo la quale la causa fosse da imputare ad un allarmante ritmo di disidratazione e al dispendioso impegno fisico occorso sul set del film i3 dell'operazione drago quel maledetto 20 luglio del 1973 quindi due mesi dopo più o meno perché era il 10 maggio 20 luglio siamo due mesi e dieci giorni dopo giorno più giorno meno quindi stavamo perdendo del 20 luglio del 1973 siamo ad un cong l'attore si trovava lì perché aveva appuntamento in serata con george la zambi attore australiano con il quale avrebbe dovuto discutere il nuovo progetto game of dead giochi di morte tradotto george la zambi tra l'altro nel 69 se non ero nel 70 71 quello che è comunque all'inizio fine anni 60 edizioni 70 premente inizioni 70 fece per l'unica volta la parte di james bond quella giornata bruce la passò a cominciare dalle ore 14 in compagnia dell'amico produttore raimond show 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 spero di averlo pronunciato giusto giusto due ore dopo si recarono dall'attrice taiwanese betty ting pay studiarono insieme il copione del film prima di recarsi al ristorante miramar dove l'asabi li attendeva per cena show andò via per primo lasciando bruce betty da soli sebbene lì fosse sposato con linda corrivano voci di una presunta relazione tra i due li avverti la stessa forte bicrania della volta precedente e la tigli offri una pastiglia di equagesic farmaco composto da aspirina e be probamato li si andò a sbagliare a letto attendendo che l'analgesico facesse effetto l'attore non si svegliò mai più betty tentò in vano di svegliarlo e poi invece di chiamare l'ambulanza chiamò direttamente show che tornò tempestivamente dell'appartamento quando ormai era già troppo tardi chiamarono un medico di fiducia lì fu trasportato in ospedale dove intorno alle ore 22 fu dichiarato morto all'arrivo bruce ci lasciò a 32 anni l'autopsia rivelò un nuovo edema cerebrale che avrebbe fatto gonfiare messo tra virgolette il cervello di bruce di circa il 13 per cento il peso del cervello era di 1500 1575 grammi rispetto a quelli medi di circa 1400 grammi le sostanze ritracciate nel corpo furono i componenti dell'equagesic e 4 milligrammi di marijuana da lui masticati il caso fu affidato a donald tier piuttosto noto per aver supervisionato oltre mille autopsie il medico forense concluse dicendo che era stata fatale un'allergia ai composti dell'equagesic vede così usata la dicitura death my misadvention ovvero morte per disavventura a differenza della morte accidentale la dicitura attestava la consapevolezza dell'attore dell'assumere la pastiglia un atto volontario peter wu il dottore che lo savò in precedenza disse che la disgrazia era dovuta alla seppur minima quantità di cannabis assunta e poi risultata dalle analisi poi ritrattò il professor tier disse wu era uno scienziato forense raccomandato da scott and liar era stato interpellato come esperto sulla cannabis e non possiamo contraddire la sua testimonianza il dosaggio della cannabis non è preciso né prevedibile ma non ho mai sentito di qualcuno che sia morto solo per averla assunta dall'autopsia si evinse anche una disfunzione renale accompagnata da minuta e quantità di fluidi e sangue dei polmoni questo aspetto indusse il giornalista ales ben bloc a ipotizzare che la morte fosse stata la conseguenza di un voler violento e ben assestato colpo di kung fu subito delle scene di combattimento sul set due anni dopo il collega amico dell'attore chuck norris walker tessas rangers con il quale lavorò sul set sui set disse che bruce morì a causa del miss fatale di due medicinali vale a dire un farmaco mio rilassante che secondo norris il collega inizia ad assumere dal 1968 a causa degli infortuni riportati sul set quando il farmaco era stato assunto in combinazione con l'equagesic avrebbe scatenato quella fatale reazioni nel 2018 in una biografia pubblicata dallo scrittore matthew polli dopo essersi consultato con un equip medica avvolerò la tesi di un decesso frutto di sforzi eccessivi di un colpo di calore infatti del 1972 l'attore si era fatto asportare le ghiandole sudorifere ascellari perché il sudore sotto le ascelle era considerato poco fotogenico ai tempi dell'autopsia era un valore poco considerato e probabilmente l'intervento aveva condizionato il corpo dell'attore sottoponendo l'ade eccessivi aumenti di temperatura che propiziarono entrambi gli edemi cerebrali a cui do incontro bruce nonostante le cause del decesso di bruce con il tempo siano state confermate dalle autorità competenti per i fan dell'attore rimangono tuttora molti dubbi e il consenso allure di mistero già dai primi tempi tra gli appassionati iniziarono a circolare molte ipotesi complottiste frutto anche di semplici immaginazioni voci delle quali veniva inclusa l'attrice betty team pay probabilmente ai tempi amante di bruce lee secondo alcuni avrebbe cercato di ucciderlo volontariamente addirittura betty team pay non riuscì a presenziare al funerale del collega per via delle voci che si erano sparse foraggiato oltretutto dalle immagini che immortalavano l'attrice accompagnata spesso da boss delle triadi dei locali notturni inoltre betty aveva la fama di fare uso virtual di droga alcol e che avesse debiti dovuti al gioco d'azzardo uso virtuale di droga alcol e che dovesse debiti di gioco dal gioco d'azzardo l'accusa arrivarono a toccare anche raymond show che seppur amico di bruce stava per terminare i rapporti con professionali collattori tra gli accusati anche il regista low way per via di alcuni screzzi pubblici e il produttore run show perché per un rifiuto di li ha perso la ghiotta occasione di poter realizzare un'importante produzione internazionale tra i sospestati anche alcuni esponenti del mondo delle arti marziali e i membri della malavita cinese bruce fu seppellito a seattle del cimitero di like view dove vent'anni dopo lo raggiunse anche il figlio brandon anche gli misteriosamente morto giovanissimo tanto che per i fan si inizia a parlare di maledizione e andiamo a parlare appunto di brandon lì adesso brandon perse dunque il papà quando aveva solo otto anni grazie a bruce apprese le arti marziali e seguì le orme del padre anche al cinema nel 1993 interpretò eric breven il corvo nel film non era richiesta alcuna sequenza di arti marziali ed era l'occasione per scrollarsi di dosso l'etichetta di essere il figlio di bruce lì cosa a cui l'attore teneva particolarmente a pochi giorni dalla fine delle riprese la produzione scelse di girare dei flashback per le ultime scene dell'occasione il protagonista e shelly venivano uccisi all'interno di un appartamento il 31 marzo del 1993 si girò la scena fatale in cui l'attore michael massè interprete di fanboy avrebbe dovuto sparare al collega si trattava però di un semplice colpo a salve ovviamente la pistola che sparò era un revolver smith and wesson modello 629 44 magnum che doveva essere inquadrata con differenti primi piani per l'occasione la troupe scelse inizialmente di utilizzare proiettili veri ma senza polvere da sparo che a contatto con un ogiva il pezzo voidale anteriore che dalla canna arriva fino al bersaglio designato provoca l'innesco e fornisce la spinta che fa partire appunto l'ogiva stessa dopo i primi piani sull'arma furono sostituiti proiettili veri con quelli a salve che massè avrebbe dovuto sparare verso l'addome del collega ad una distanza di quattro metri tuttavia gli addetti al cambio dei proiettili non si accorsero di aver lasciato ancora quelli veri e quando fu prenduto il grilletto sebbene senza polvere da sparo l'ogiva ricevette la spinta necessaria fino alla canna e si incastrò lì nessuno se ne accorse non appena il regista diede il chuck fu esploso il colpo a salve e l'ogiva ferì mortalmente brandon lee l'attore avrebbe dovuto cadere accasciandosi prima in avanti ma il corpo finì all'indietro all'inizio nessuno si accorse di nulla il regista posteriore disse lo vedi crollare a terra con un lamento il foro del proiettile mi parve perfettamente simulato e il sangue era forse fin troppo abbondante ma nel complesso la scena era riuscita a meraviglia e dopo aver gridato stop disse che ne avrebbero girato un'altra più che altro per sicurezza poi la presa di consapevolezza visto che non si muoveva mi avvicinai a lui notai che la macchia di sangue continuava ad allargarsi bichinai toccai con il dico con il dito quel liquido era tiepito e denso come sangue sangue vero sul ser cadde un silenzio di morte la prima persona a capire fu elisa atto la fidanzata di brandon che faceva parte del casco come assistente alla produzione lanciò un urlo e si percepita verso brandon mentre io mi rendevo conto che risperava debolmente che le sue condizioni dovevano essere gravi brandon fu trasportato al medical center di wilmington dove fu dichiarato morto alle ore 13 del 31 marzo del 1993 aveva 28 anni la morte lo raggiunse quattro anni prima di quella del padre brusley deceduto a 32 anni anche nel suo caso di si trattava di misadvention dopo l'incidente fu introdotta la norma secondo la quale per le scene in cui si verificano sparatorie le armi andavano puntate mantenendo un'angolazione di 30 gradi dopo la morte di brandon tornarono a farsi sentire le voci complotiste ma soprattutto quelle più legate ma soprattutto quelle più legate ad una maledizione che incombeva sulla famiglia addirittura furono gli stessi genitori di brusa a parlare di maledizione nel calderone di voci vede inclusa anche la coincidenza del progetto sul quale brusley stava lavorando prima di morire game of dead come il padre del film brusley avrebbe interpretato un esperto di arti marziali che viene ucciso dalla malavita secondo alcuni la trama era collegabile alla teoria che vedeva l'attore morto per ordine della mafia cinese lo stesso parallelismo lo ritroviamo anni dopo per brandon deceduto prima delle nozze proprio come accade al personaggio interpretato eric ancora oggi per gli appassionati la morte di brusley è un mistero senza risposta così come quelli di suo come quella di suo figlio bene ragazzoni cioè bene male male perché comunque due persone morte una 32 e una 28 anni per delle misadvention non è francamente il massimo però spero di avermi incuriosito spero che questo racconto sia piaciuto anche se è un racconto triste e quindi adesso io vi saluto vi ringrazio e vado a vedere come è andata la giornata del campionato femminile mi ha più nato nel mondo femminile di calcio così vi faccio il riepilogone come sempre che naturalmente vedrete prima di questo video quindi non so neanche perché ve lo dico perché tanto lo vedrete prima di questo video ma sicuro faccio dopo ma lo vedrete prima di questo video però mi sembrava giusto farvi prima le cold news perché vi ho lasciato senza news e cold news ciao